Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, vi ricordo per supportarmi un bel like e l'iscrizione al canale sono fondamentali quindi confidi in voi detto ciò oggi siamo con la missione entra in un UFO, ci basterà entrare in questa navicella UFO e tac 30.000 punti esperienza fatti detto ciò ragazzi spero di esservi stato utile, se vi sono stati utili vi invito sempre a lasciare un bel like e l'iscrizione al canale e mi raccomando confido in voi ciao ragazzi